Amici di Studio 100 By Night ci troviamo a Castellaneta in provincia di Taranto naturalmente in Italia per assistere ad un evento questa sera a per titolo Sfilando sotto le stelle. Noi naturalmente ci siamo accreditati per questo servizio plurieccezionale e ve lo documenteremo istante per istante. Continuate a seguirci su Studio 100 By Night. Maledetto! 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 Musica Musica Bellissima location che è la Villa Sette Possi io la prima volta che vengo qui a Castellaneta devo dire che è un posto veramente molto bello, molto accogliente abbiamo detto che la gente di Castellaneta è molto calorosa Quindi io comincerei subito così a testare questo calore, questa energia della gente di Castellaneta con un grande applauso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti